Mobilizzazione dei lavoratori su tutto il territorio nazionale con otto ore di sciopolo e con due ore di assemblea sui posti di lavoro per sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori a sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali volte ad un rapido e positivo rinnovo del contratto di lavoro. Anche a Gela, le segretarie di Filctem, Cigelle, Femca Cisle e Wiltequil hanno promosso incontri con i lavoratori in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Appuntamento questa mattina nella saletta sindacale dello stabilimento. Su questa rivendicazione noi abbiamo posto il fatto salaliare che su quello che era la nostra richiesta è stato dimezzato si è fermi pure per quanto riguarda il welfare su quella che è la prevedenza e quant'altro e poi perché hanno rimodulato in maniera drastica il sistema classificatorio. Noi questa giornata di assemblea che stiamo facendo la facciamo in virtù a una messa in sicurezza degli impianti e quindi su quello che è il fermo degli impianti di Enimed che è pari al 40% dei pozzi e per quanto riguarda Gris Stream è pure una giornata di fermo plasmata in tre giorni in maniera tale che anche il lavoratore che ci mette di tasca oggi la giornata di sciopero anche l'ENI deve partecipare alla perdita di produzione. La partecipazione nello sciopero è stata massiccia da parte dei lavoratori perché nel momento in cui si va a toccare quella che è la questione del potere salariale dei lavoratori la questione dei diritti acquisiti e nello stesso tempo anche la possibilità di non avere un contratto nel breve scadenza questo ha fatto sì che i lavoratori hanno partecipato in grande massa non c'è dubbio che come industria ne deve prendere atto di questo malcontento dei lavoratori non si può con un colpo di spugna cangellare tantissimi dei diritti conquistati nel tempo ecco perché le motivazioni di uno sciopero forte ecco perché abbiamo fatto sì che le attività produttive fossero penalizzate ecco perché nella giornata di oggi vorremmo vantare e sicuramente l'abbiamo fatto un messaggio forte a Commindustria. Stanno venendo meno i diritti dei lavoratori sotto l'aspetto normativo e sotto l'aspetto del ritorno economico noi chiediamo a gran voce che questi elementi fondamentali vengano rispettati e far sì che i lavoratori quando meno riescono ad avere quel potere d'acquisto che permette di poter continuare a vivere in maniera più serena e tranquilla.